Buon pomeriggio, bentrovati a questa edizione straordinaria del TG6, una sorta di anteprima del TG che andrà in onda come sempre alle ore 14, lo facciamo perché andiamo in diretta da Ortona dove c'è il nostro Giuseppe Dintino in compagnia del sindaco Leo Castiglione al quale chiediamo chiaramente degli aggiornamenti rispetto alla notizia di questa mattina, la positività di un uomo morto nei giorni scorsi per patologie cardiorespiratorie che poi è stato trovato dopo l'autopsia positivo al coronavirus. Sì, buongiorno, come detto ci troviamo a Ortona perché un uomo è deceduto e si è scoperto poi dall'autopsia che era positivo al coronavirus. Il sindaco per raggiungerci è appena uscito da una riunione qui in comune con l'ASL. Sindaco, che cosa emerge da questa riunione? Niente, l'ASL, il Dipartimento di Prevenzione e Tutela della Salute insieme al Servizio di Epidemiologia di Chieti hanno attivato subito tutte le iniziative affinché si possa arrivare ad una mappatura completa della situazione, dei contatti avuto dal soggetto al fine di tenere sotto controllo la situazione. Noi appena abbiamo ricevuto la comunicazione dal Dipartimento di Prevenzione appunto da quel momento stiamo attivando tutte le iniziative possibili in collaborazione con l'ASL di Chieti. Ecco perché voi nei giorni scorsi già avete fatto un'ordinanza preventiva che limitava determinati assembramenti pubblici però avete intenzione ora di ampliare questa ordinanza, di fare nuove ordinanze? Sì, infatti sto per emanare un'altra ordinanza in cui si ribadiscono i divieti già in atto e mi riferisco alla chiusura del museo, alla chiusura della biblioteca e degli impianti sportivi ma si aggiungerà anche il divieto di accesso al pubblico, agli uffici comunali che però resteranno aperti per soddisfare le richieste dei cittadini attraverso mail e telefono. A questo si aggiungerà anche la chiusura del mercato coperto e la sospensione del mercato settimanale. Questa ordinanza avrà la durata di 15 giorni. Intanto possiamo dire che al momento all'interno del Comune che voi sappiate non ci sono altri casi positivi? No, al momento queste sono le notizie. Io colgo questa occasione per invitare calorosamente i miei concittadini a non recarsi al pronto soccorso. Questa è una raccomandazione di attenersi alle prescrizioni, alle regole che sono state impartite dagli organi superiori, cioè quelle di avvisare il medico di famiglia oppure di chiamare il numero verde della ASLA. Bene, se ci sono domande di studio restituisco la linea. Sì, allora una domanda per il sindaco che riguarda un po' il ruolo della ASLA a beneficio di chi ci ascolta. Ricordo che su questa vicenda è aperta anche un'inchiesta della magistratura, dunque è necessaria ancora più cautela in questo caso proprio perché sta indagando anche la magistratura. Però volevo sapere dal sindaco se, chiaramente immagino di sì, ha parlato con la ASLA di Chieti e qual è stato lo scambio di informazioni con l'ASLA? Lo scambio di informazioni è stato solo quello di dare tutte quelle informazioni appunto al servizio di prevenzione e a quello di epidemiologia per arrivare subito a capire quali siano stati i contatti di questa persona. Per quanto riguarda l'altro aspetto non ne abbiamo parlato perché non è competenza del sindaco. Altra cosa, sindaco, ci conferma che quest'uomo era il titolare di un bar a Caldari? So, mi risulta che è una gestione familiare di un'attività appunto come ha detto lei. Caldari, a beneficio di chi non conosce la zona, è una frazione di Ortona, tra l'altro molto importante perché in quella zona insistono tantissime aziende del vino e non solo, anche di produzione della pasta, dunque una zona molto importante per il comune di Ortona e anche per la regione Abruzzo. Io ringrazio per questo collegamento il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, ringrazio anche Giuseppe Dentino che ritroveremo tra poco nel corso della edizione ordinaria del TG6 alle ore 14, dunque vi invito a restare con noi perché tra poco riapriremo il telegiornale e torneremo nuovamente ad Ortona. A tra poco. Grazie a tutti.